Ecco, per esempio, mi racconti di lei, della sua vita, delle cose che le succedono. Ma non saprei da dove cominciare. Ma non so, dove abita? Abito a Via Maiella. Via Maiella. Maaiella, capito? Fì, fa dove è crollato quel palazzo, no? Avrò letto l'esplofione di una bombola. Ecco, è proprio davanti a casa mia. Mi sono affacciato alla finestra e l'ho visto proprio andare giù. Pensi alla concomitanza, eh. Ma avrà degli amici, una fidanzata. Eh no, purtroppo mi ha laffiato. Una cofa terribile. Adesso non esageriamo, è una cosa che capita a tutti. Beh, fomma, laffiarmi così, a trent'anni, schiacciata da un meteorite. Meteorite? Quindi per lasciata intende proprio... Sì, purtroppo. Guardi la mia fidanzata, guardi, guardi com'era bella. Qui eravamo a New York. È stata una vacanza fantastica. Un fogno. 11 settembre 2001? Ma come ha fatto a indovinare? Intuito.